Eccoci qua ragazzi, dopo l'Hydrastomper cosa potevo farvi vedere? Ovviamente Capitan Carter. L'ho già detto in un altro video, la sappiamo già la trama. Super Siero invece che essere stato inserito nel corpo di Steve Rogers e diventa Capitan America, lo prende Peggy Carter e diventa Capitan Carter. Ha questo scudo con la forma della bandiera inglese perché l'era inglese, è la compagna, l'amore più grande di Capitan America, insomma poi sono tutte cose che sapete meglio di me. Come potete vedere ancora sigillata, ha un po' di mesi anche questa, ma non l'ho ancora preso, non l'ho ancora aperta, perché volevo aprirla con voi. Dentro c'è due braccia che sono quelle dell'osservatore di là, non mi ricordo l'altro video, non l'avevo chiamato così però. Chi volesse prendere tutti questi personaggi qui può costruire l'osservatore, sicuramente è bello, però francamente di Capitan America zombie non mi interessa, Star Lord, so già che se lo prendo poi comincio a ricomprare tutti gli altri. A parte che forse Capitan America zombie non ha nessun pezzo, quindi potete anche non prenderlo. Poi cosa abbiamo? La versione di Spider-Man che combatte gli zombie come nel cartone animato e così via, insomma tutti questi personaggi qua. L'unica che mi potrebbe piacere è Sylvie, da mettere vicino, ma non l'ho ancora trovato, ha il suo alter ego, Loki. Stavo pensando, comunque una scatola, vedete? C'è Capitan Carter, bello ha questo disegno, qui va sempre lei e lei con suo scudo. Ok, lo apro e lo vediamo insieme. In questo caso lei non ha come al solito le doppie mani, ma solo queste. Un pugno chiuso e un pugno sicuramente per afferrare lo scudo. Vabbè ci sono queste due braccia che non sono nessuno, l'abbiamo già detto. E niente che dire, ve la facete subito molto da vicino alla confezione, è molto molto bella. Come dico sempre guardate il volto, fatto veramente veramente bene. Anche lo scudo. Deve essere bello anche l'osservatore, però francamente prendete tutti quei pezzi no. Lo fanno apposta, siete obbligati a prendere altri sei di questi, tra cui due o tre abbellini a due o tre che potete farne a meno per costruire l'osservatore. però a me non è che mi interessa tanto. Anche però non ho più spazio. Va bene dai, la tiro fuori dalla scatoletta. Allora ragazzi, la facete da vicino perché il problema è sempre lo stesso, i piedi. Per farla stare in piedi è veramente dura. Comunque hanno dei volti, come dicevo, veramente stupendi. Guardate l'orecchio, la bocca, gli occhi. Spero che si veda bene perché è veramente veramente bella. Guardate. L'unico difetto che hanno sono sti cavoli di piedi che hanno già i buchi. Potevano metterci un cavolo di stand dove agganciarlo. Non gli costava niente. fate pagare piuttosto qualche euro in più, ma vedete, non ci sta perché è difficilissimo farla stare. Finalmente ce l'ho fatta. Guardate, non vi dico per farlo stare in piedi quanto ci ho messo. Vabbè, comunque non ve lo faccio girare. Vedi che ho pura che ricade. E aspettate, ci metto una luce un po' più. Ecco, questa è un po' bella. Che dire, bella è bella. L'ho ingrandita un po' troppo. Bella è molto bella. A me piace tantissimo. L'unico difetto che hanno queste action figures, soprattutto le femmine, perché hanno il piede un po' più piccolo, è il piede per farlo stare fermo. Va un po' a scatti e trovare lo scatto giusto per farlo stare in piedi è veramente veramente difficoltosa. Sicuramente con un po' di phon si ammorbidisce un po', è un po' più facile dargli una posizione. Però quello si fa con calma e non prima del video. Comunque, finora ci sono riuscito. Eccola qua. Ve la giro io piano piano, sperando che non cada. Vi posso solo dire che è veramente, veramente, veramente bella. Io di questa serie qua mi piacciono più i personaggi con un volto che i robot, però anche il suo robot lì è bello. Eccoli qua vicino, guardate come sono belli i ragazzi. I due amori, Steve Rogers e Capitan Carter. O Peggy Carter solo, però qua è Capitan Carter. Veramente, veramente bello. Ragazzi, che dire, ho fatto tre video abbastanza brevi, però mi sembrano abbastanza carini. Se avete domande, fatemele pure. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like. E seguitemi, che arriveranno tanti altri video molto belli. Ciao ragazzi, buona domenica e al prossimo video. Ciao ciao!